Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un concerto di musica è un evento dal vivo dove artisti e musicisti si esibiscono davanti a un pubblico, offrendo un'esperienza unica di ascolto e coinvolgimento. Durante un concerto, i partecipanti possono godere della musica in un'atmosfera vibrante e condivisa, spesso arricchita da effetti visivi e luci. È un'occasione per gli artisti di connettersi direttamente con i loro fan, ma oggi non è stato così. Il celebre cantante internazionale è deceduto durante un concerto, lasciando tutti sgomenti. L'artista, di soli 35 anni, è morto a causa di una folgorazione avvenuta mentre si esibiva al foro VOR di Salinopolis, nello stato di Para. La notizia, inizialmente non diffusa dai media internazionali, ha cominciato a circolare oggi. Secondo quanto riportato da un noto quotidiano il dramma si è verificato quando un fan, bagnato, si è avvicinato al palco per abbracciare il cantante e il suo chitarrista. Il contatto con un cavo elettrico nelle vicinanze ha provocato una scossa letale per il cantante. Le autorità locali hanno avviato un'indagine sull'incidente, ascoltando i testimoni e ordinando perizie tecniche. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, parlimo del cantante brasiliano Sasaki e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.